Dimmi la verità, quante volte ti sei trovato dopo aver pensato e scritto un post a non sapere quale hashtag utilizzare? Dai, ora ci penso io a darti una tips davvero molto utile. Si chiama l'e-tags. Scaricala dal tuo app store e inserisci l'argomento del tuo post. In un attimo troverai gli hashtag consigliati e la percentuale di pertinenza. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e salvalo in modo tale da poterlo rivedere tutte le volte che vorrai.